Noi abbiamo immaginato come profilo per questo presidio ospedaliero tre livelli, diceva il direttore, un livello destinato alla lungo degenza e alla cronicità, aprendo quasi 40 posti letto, di cui 20 per la lungo degenza e 20 per la cronicità. Abbiamo immaginato i 12 posti letto per i disturbi alimentari, quindi arriveremo a 50 posti letto, garantendo un futuro di sopravvivenza per consentire domani a questo ospedale di poter anche riavere tutto quello che gli è stato tolto, perché un ospedale che continua a vivere può sempre ritornare ad avere tutto ciò che magari gli è stato tolto a differenza di quello di non avere. Queste sono chiacchiere. Sono chiacchiere. Sono quelle che possiamo dire, sono quelle che possiamo dire. Perché da 150 anni abbiamo avuto l'ospedale, ci hanno truffato, truffato, ci hanno preso per prostitute, per buttane. Noi vogliamo l'ospedale a CERRE! Noi vogliamo l'ospedale a CERRE! Noi vogliamo l'ospedale a CERRE! Per il culo, non ci mettete il culo a CERRE! Ci avete preso per il culo tutti! Noi vogliamo l'ospedale! Noi vogliamo l'ospedale!